Parte l'avventura di Maurizio Buscaglia come nuovo allenatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Dopo la firma sul contratto biennale con opzione su un terzo anno, ieri all'Hotel by Flaminia è stato presentato il tecnico barese 54enne ex di Trento Napoli Reggio Emilia che arriva in quella Pesaro in cui ha avuto per anni ammicamenti che ora finalmente si concretizzano. Noi ci conosciamo da tempo, non solo per ragioni professionali o da avversari, ma proprio perché ci conosciamo. Ci siamo sempre tenuti in contatto, abbiamo avuto degli avvicinamenti, quindi sai, sembra come il momento giusto, bello, quando tutto torna per essere insieme e quindi mi fa molto piacere. Anche perché sono io che vengo in una signora piazza, sono io quello che sente la responsabilità e l'entusiasmo di essere in un posto dove, insomma, lo ridico come hanno detto sempre tutti che trasuda storia. Una presentazione in Baia Flaminia aperta ai tifosi pesaresi che hanno gremito la sala mostrando già il giusto termometro dell'entusiasmo. Sono contento, quindi se la stanza era piena adesso facciamo col palazzetto, no? Sembra una cosa che... lo dico perché, come ha sottolineato prima Stefano Cioppi, io ricordo da avversario, ricordo da spettatore un clima bello, l'ho avuto da avversario bello, figurati, e quindi c'è da parte mia il desiderio di... Lo dico per sottolineare un aspetto che tecnicamente mi accaro adesso, noi andiamo avanti in un programma, andiamo avanti in un processo di crescita di una società importante, organizzata, ma ripartiamo anche un po'. E tu lo sai che proprio per ripartire bisogna metterci tantissima energia, allenatore, staff, giocatori, chi viene, con che motivazioni e voglia, e pubblico. E quindi non mi stancherò mai di dirlo sempre, benché so che dobbiamo meritarcelo. Aggressività, fisicità e velocità sono stati spesso il paradigma del basket di Buscaglia, che proverà a valutare se a Pesaro ci saranno le condizioni adeguate per cucinare di nuovo una simile miscela. Io guarda, certe volte l'ho fatto, altre volte meno, ultimamente nell'andare ad allenare in certi contesti e squadre ho inserito giocatori più vicini a quelle situazioni, altre volte meno perché si incastravano in maniera diversa. Dipenderà da quello che possiamo fare, dipenderà dal budget, dipenderà anche dal desiderio di questi giocatori, perché Pesaro storicamente negli ultimi anni ha avuto bei giocatori che hanno avuto poi un futuro brillante, mi è capitato in altre piazze, quindi ci sono tanti fattori.